Allora sono qui in SOLIDWORKS e voglio far vedere come costruire questa parte qua. L'ho trovato su LinkedIn e ero curioso di vedere come poter riuscire a farlo, ok? Naturalmente io ho provato a farlo ma a mio avviso manca un qualcosa, a meno nella documentazione che ho io manca un qualcosa, cioè manca il fatto che da qui a qui sia 20 e da qui a qui sia 20, dunque sia nel mezzo perché se no, come vi farò vedere, non riesco a risolvere la cosa, ok? Mi manca un accostring, mi manca un vincolo. Adesso dunque andiamo a vedere, abbiamo questo parallelepipedo che è largo 50 qua, qua 40 e alto 40. Dunque la prima cosa che vado a fare è questo parallelepipedo, mi metto in centro, ok? Mi sposto, vado a mettere la quota e vado a mettere... Aspetta che vi faccio, provo a rifare una cosa che volevo provare a fare. Allora andiamo di nuovo sul rettangolo. Mi sposto, questo qua, giusto mi devo sempre ricordare, questo 40 invio e quello là mettiamo 50 invio. Mi dimentico sempre, invece, bisognerebbe far così che sono molto più veloce. È una cosa che mi dimentico sempre, quando uno è vecchio, è vecchio. Dunque vado in estrusione, vado su di 40, ok? Metto 40, ok. Dunque mi rimetto qui, la mia posizione è questa, perché voglio averlo qui, voglio averlo comodo e dunque mi rimetto qua dove qui io ho 50. A questo punto io direi questo, vado a disegnarmi questo. Dunque semplicemente vado a farmi uno schizzo senza tanti problemi e vado più o meno a disegnare una roba del genere. Adesso andiamo a quotarlo, ok? Faccio ESC, vado a prendere quota, ok? E disegno da qui a qui, da qui, disegno che è 30. 30. E clicco OK. A questo punto vado a cliccare questo e questo e vado a mettere che è 40. Ok. Bello, tranquillo. Qui e qui vado a mettere 20. 20, ok. 20 cosa, mi manca, mi manca questo 30 e dunque vado a mettere da qui a qui che è 30. 30, ok. Naturalmente mi manca qua sarebbe interessante provare anche vari metodi, però diciamo io questo per adesso lo lascio così, provo questo, ok? lasciamo qua, ok? A questo punto mi viene molto in aiuto la creazione dello schizzo 3D. Dunque vado con lo schizzo 3D, io lo faccio così, dopo magari uno può farlo anche in modo diverso, per carità. Dunque vado a farmi lo schizzo 3D, ok? e vado a disegnare una, potevo anche fare un piano, ma sinceramente potevo fare anche un piano a questo punto, sì. Avrei potuto fare anche benissimo un piano, perché devo trovare la direzione, ok? Sì, beh, per adesso io faccio così, semmai, semmai, magari perché volevo farlo anche con la 3D experience, lo farò in un altro modo. Dunque, vado qui, vado, naturalmente ripeto, potevo anche crearmi un piano, però, va bene. Vado qui, disegno questo, ormai sono partito qua, e vado a prendere il punto medio, ok? E faccio questo, e lo lascio lì. Ok? Io potrei anche tentare di farlo in diversi modi, nel senso che potrei a questo punto andare a fare semplicemente con uno spessore, però, vediamo questo, ecco, quello che mi viene, il primo che mi viene in mente, ok? Semplicemente vado, inserisci, però a questo punto se mi serve questo, vabbè, posso anche fare così, vabbè. Andiamo a fare, inserisci geometria di riferimento, ok? Tanto per far vedere che mi bastano tre punti. Dunque, vado in, inserisci geometria di riferimento piano, e vado a prendere questo punto, questo punto e questo punto, ok? A questo punto ho questo piano qua, riprendo su questo piano, vado a farmi uno schizzo, vado a fare converti entità e converti entità, e poi vado a tirarmi una riga, ok? Da qui, a qui, ok? A questo punto faccio funzione, taglio estruso, cieco passante, e ho fatto il primo step, ok? La stessa cosa potrei farlo da qua, ok? Anche se, qua, voglio provare a fare questo, dai. Cioè, nel senso, allora, dunque potrei fare di nuovo creazione, adesso vado a nasconderlo, creazione di questo piano qua, ok? Creazione di questo piano, naturalmente su questi tre punti, fare il triangolo, andare su in estrusione, come ho fatto, però proviamo a fare questo, vediamo se funziona, però posso, l'alternativa è, posso fare questo, vado in schizzo, ok? Converti entità, ok? Funzione, taglio estruso, vediamo se funziona, ok? La direzione è questa, e lo metto passante, schiaccio qua, addirittura, adesso l'ho fatto, dunque, potevo farlo, come ho fatto, taglio due, potevo farlo, come ho fatto, come taglio uno, o posso farlo anche così, dopo, c'erano anche varie, adesso andiamo a vedere, se è corretto, ok? Se la, andiamo a vedere qua, dunque, andiamo a vedere, così, proiezione, mi sembra giusto, ok? Più o meno, siamo giusti, naturalmente, se ho fatto l'ipotesi giusto, ma penso di sì, del punto medio, ma non penso, non penso che sia giusto, qua è la vista questa, andiamo a nascondere, lo schizzo 3D, ok? Questa, è, andiamo a vedere, a schiacciarle così, questa è questa, ok? naturalmente, questo, dove, nascondiamo, ok? Questa è questa qui, e andiamo a vedere l'altra, e questa, dovrebbe, vediamo se mi sposta, perché devo schiacciarmi qua, devo schiacciare qua, e questa è questa qua, dunque, è un bel pezzo, nel senso che, ti fa ragionare, i piani, e così via, è probabilmente, un esercizio, di base, che può essere interessante, per fare all'inizio, quando, i ragazzi devono imparare, chi non è, conosce ancora bene, Solidworks, l'uso dei piani, dunque, potrei farlo, potrei usarlo, nei miei corsi, vabbè, penso di essere stato, abbastanza chiaro, dunque, qui è creazione di piani, anche perché, il 3D, io potevo, benissimo, crearlo, con, un piano, e dunque, non usare uno schizzo 3D, ma, semplicemente, un piano, e che è più veloce, usare uno schizzo 3D, vabbè, comunque, ripeto, un bel esercizio, e, soprattutto, per livello base, ok, ci vediamo, alla prossima, arrivederci. a presto, all'estercizio, vi agosto a tutti, inizio, a tutti, esercizio, Grazie a tutti